A Prodo a Pescara è un evento assolutamente insolito rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Le Naidi hanno infatti pensato di organizzare una singolare giornata di nuoto, una giornata vera e propria nel senso di 24 ore, da sabato 23 e domenica 24 giugno, a partire dalle ore 12 fino alle 12 del giorno dopo. Un evento che si basa sul nuoto, ma che attorno ad esso ha costruito un vero e proprio spettacolo. Ma in scena una delle gare più pazze e divertenti dell'estate pescarese. Teatro è la piscina olimpionica scoperta delle Naidi, ma anche il parco delle Naidi per tutto ciò che concerne gli eventi collaterali. Per la parte in acqua si può nuotare da soli o in squadre. I gruppi possono essere associazioni sportive, benefiche, scuole e famiglie. La somma delle distanze percorse da ogni nuotatore sarà il risultato del gruppo. Si può anche puntare sulla velocità, con una corsia dedicata al risultato dei 50 metri. In calendario, oltre al nuoto, sono previsti tanti spettacoli e intrattenimento, così da non lasciare mai spazi vuoti all'interno delle 24 ore. C'è di tutto, c'è anche la nazionale sudafricana di nuoto, che è presente nei Naidi per lo stage di allenamento preolimpico e prende la parte anche alle 24 ore di nuoto. Un biglietto da visita non male per questo evento. Tanto più che in questa prestigiosa nazionale, ci sono anche atleti che probabilmente vinceranno la medaglia a Londra.